Devi acquistare una fotocamera usata o semplicemente devi vendere la tua reflex ma non sai quanti scatti ha effettuato fino ad ora? Oppure sei semplicemente curioso di sapere a che punto della vita è la tua fotocamera? Prima di iniziare vi chiedo di mettere un like al video e di iscrivervi al canale per supportarlo. In questo video andremo a scoprire quanti scatti hai realizzato fino ad ora con la tua reflex. Questa procedura è semplicissima ed è efficace con la maggior parte delle fotocamere in commercio. Per prima cosa scatta una foto qualsiasi con la tua fotocamera in formato JPEG. Estrai la scheda di memoria e copia la foto così com'è sul tuo computer. Ora apri il sito www.camerashuttercount.com Clicca su Scegli file, seleziona la foto appena scaricata e clicca sul pulsante Upload. In pochi istanti il sito web ti restituirà il numero di scatti effettuati con la tua fotocamera. Se avete una macchina Canon invece dovrete semplicemente scaricare l'applicazione Canon EOS Info. Collegherete la vostra reflex al computer con il cavo e successivamente vi farà vedere quanti scatti avete effettuato. Facile e veloce! Fatemi sapere nei commenti quanti scatti ha effettuato la vostra fotocamera. Se vi siete trovati bene con questa procedura o se avete riscontrato problemi cercherò di aiutarvi rispondendovi ai commenti. Come all'inizio del video, se non l'avete ancora fatto, mettete un like ed iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video in uscita. Noi ci rivediamo ancora qui sul mio canale YouTube. little bit Grazie a tutti.